un effetto una regola di distaccamento solida che potenzia miratamente solo i guerrieri tiranidi nel caso qualcuno volesse usarli al posto dei gaunt esattamente il tipo di adjustments che se posso essere sincero non mi piace perché sta dicendo letteralmente ti piace quel modello? fai un esercito con solo quel modello, la lista si costruisce circa, schiacci dentro metti tutti i tirani i guerrieri che poi non so se ne giochi 36 32 il massimo ah giusto perché sono battleline sono due datasheet adesso esatto per quello ho stato dicendo non penso che ne giocherai anche perché non penso che ti stiano come punti però invece ci lo punti ti stanno ti stanno ne giocherai ne giocherai un botto poi farai un un bel po' di di tirani di guerrieri gli darai il loro bonus però non non c'è interesse neanche costruire la lista secondo me non so a me questo stile di attachment mi piace e lo so perché ne ho visti essendo ad me che ci sono tanti stratagini che hanno questo stile gioca a quell'unità gioca a quel modello sì però ti sforzo un pochino di più probabilmente allora neanche a me piace come filosofia però posso già spezzare l'anace a favore l'aver dato il bonus anche alle unità del tirano e del guerriero aleato rende un'unità che non pensaresti molto interessante le gargolle avere le gargolle che attivano le keyword perché possono essere gemmi e hanno in volare via il 5 e sono batteline di loro unità da 20 possono arrivare non è male è un'unità che spara e poi si muove oltretutto ha qualche guizzo creativo non è bello come gli altri che abbiamo visto fino adesso non ci avevo pensato questa è già una cosa più laterale però stai comunque saltando metà dei bonus che ti dà il touch assolutamente assolutamente bene quindi in announcement abbiamo tirano sinaptico il neurotiranno può essere aggregato ai guerri tirani il neurotiranno che è quello della scatola di Leviathan il tiranno cervellone che fino ad esso può essere aggregato solo agli zoantropi diventa un leader anche per i guerrieri questo vuol dire lui dà il più uno a colpire all'unità a cui si aggrega ha un c'è fiamme fortino e poi dà la sinapsia ad aria a distanza ma soprattutto è un mostro quindi per mettere l'unità a cui si aggrega grazie all'ultimo datas le ti sparare in mischia vero e quindi ai guerrieri tiranidi da tiro che colpiscono il più uno ti sparano in mischia come fossero dei veicoli e inizia a essere un po' un po' interessante il tutto perché altrimenti se non vuoi i tirani gli sparano pochezza alla fine è abbastanza purtroppo però sì non lo so forse è un po' strano perché a me piacerebbe di più perché hanno un po' potenziale di danno metterlo ai tirani di BD che comunque farli colpire al 2 abbastanza forte soprattutto considerando che rerollano che possono rollare i tirani per colpire di uno però il modello stesso è un pochino più stupido mandarlo in corpo a corpo il suo lanciafiamme è buono però lui non comunque il lanciafiamme è che ti spari in faccia dopo è un lanciafiamme però una volta che è in corpo a corpo non fa granché però sì sono d'accordo secondo me è interessante con quei limiti sì sì è un interessante boost aggiuntivo nel mio stile di gioco e sì e sono comunque modelli che i neurotirani sono modelli che vuoi mettere nell'esercito la maggior parte delle volte perché l'abilità di far fare battle shock a meno uno con con l'ombra del warp lo rende molto più rilevante rende l'ombra del warp molto più interessante e quindi è un modello che vorresti giocare se non hai spazio non hai l'idea di giocare a zoantropi a vero dentro l'unità di i treni di guerri che comunque stai giocando perché stessi giocando questo detachment ha senso è carino comunque costi 10 punti non è gratuito però infatti però 10 punti non puoi sperare di meno sì ci sia assolutamente il minimo per un enhancement alla fine prossimo non so a chi tocchi mi sono perso allattamento oculare 20 punti prime al lato ogni quanto il modello ogni quanto il modello dell'unità del portatore fa un attacco aggiungi più uno al colpire questo secondo me è molto più interessante del neurotiranno perché alla fine è il suo effetto perché avere il neurotiranno per il più uno colpire mettere l'unità di guerrieri ho paura che costi un po' di più il neurotiranno che il primalato ma probabilmente neanche di poco so guardo il problema è che il primalato ti dà anche la keyword fly che è un nerf a volte il primalato costa 65 mentre il neurotiranno costa 105 ecco allora direi che è abbastanza risolto bene bene non giocherà ma il il però sono d'accordo però secondo me puoi giocare entrambi se tu stai giocando i tuoi guerrieri tirannidi un singolo neurotiranno lo inglobi in unità e gli dai quella cosa sì ma da tiro non da corpo a corpo allora a quel punto ti dico la realtà che comunque lo giocherai dentro ai zoantropi anche perché vedremo dopo un stragemma che i zoantropi va a braccetto è vero e allora il primo in a hazard comincia a diventare un pochino meno utile anche perché due neurotiranni non li giochi non ha senso stai pagando tanti punti per una cosa che non ti serve esatto bene il prossimo è assimilazione sensoriale 20 punti per un wind tyrant prime sempre la siamo e ogni volta che un attacco bersaglio in quest'unità meno uno e tiro per colpire c'è un senso siamo come quello di prima ma difensivo ed è forte sempre perché stealth più meno uno e se colpire nel corpo a corpo 20 punti qua li paghi molto volentieri secondo me la dettagione di base ti rende più difensivo questo ti rende più difensivo non sono delle unità che sono impossibili da togliere una squadra da sei guerriere comunque no cominciano a diventare antipatici cominciano a diventare antipatici andranno sempre persone vulnerabili avrai meno una colpirli puoi dargli se non sbaglio si quelli midi puoi dargli il reroll dei tiri salvezza quindi possono anche fare qualcosa a questo punto di vista quindi si fastidiosi lo prendi sempre questo probabilmente ma l'ultimo secondo me è quello più interessante che ogni attachment potrebbe avere certo elevated might molto semplicemente avanza e carica all'unità del portatore quello che tutti vorrebbero sempre avere a disposizione come enhancement perché c'è sempre l'unità lì che non avanza e carica e ti servirebbe e costa 30 punti infatti non è economico ma è essenziale per un per un parco opzioni che puoi avere vini passiamo insieme a gemmi direi tutto qua facile veloce ed è fa tutto quello che vuoi fare 30 punti sono tanti sono tanti però mi spendi 95 punti per un per un prime alato che dà assalta e carica avanza e carica la sonità sì sempre sì d'accordissimo decisamente anche perché spero secondo questo è tyrannis quindi in realtà puoi darlo anche a un anche a un tirano alato o un tirano a piedi non è che accordo già il tirano a piedi con le quali tirano e provanti a ricaricare sì sì ha un suo perché questo adesso utilizzo anche poi dei treni dei treni di guerriere neghiamo subito quello che avevo detto all'inizio puoi fare delle cose in più che non sia soltanto dire il gioco rentato tutto quello che non è guerriero non riceve bella regola armata certo però ci sono altri detachment che fanno questa cosa del dire gli stampagemmi sono forti sono forti non gioco comunque perché mi va bene anche se non beneficio tanto della regola quindi secondo me bene tra gemi quindi direi yes ci siamo amplificazione sinattica il primo statagemma shooting phase o fight phase un'unità tirano che non ha ancora sparato o combattuto questa fase se quell'unità è un'unità guerriera allora selezioni fino a un'unità endless multitude della tua esercito che non è battescioccata entro 6 pollici da quell'unità di guerrieri fino alla fine della fase ogni qualvol ogni modello in cui l'unità fa un attacco le rolla un tiro di 1 e se l'unità è un'unità di guerrieri le rolla un tiro di 1 ritira un colpo di l'uno preferire se l'unità di guerrieri anche uno di colpire si ricordiamoci che endless multitude sono tutti i tirani di piccini quindi sono caragolle o fermagunze e neurogunze già quindi le caragolline che ti tirano un sacco grazie anche al tiranno aggregato che hanno il vulnerabile in sensi interessanti il tirano lato non tira keyword guerrieri quindi non ripeterà gli uno per colpire ripeterà solo gli uno per ferire perché tira solo la keyword primalato ha un suo motivo di esistere si anche perché alla fine come è scritto è un po' ingannante però non è richiesto che lo stratagemma avversagli i guerrieri e non è necessario che ci sia anche l'endless multitude vicino semplicemente tu scegli un'unità tiranide strecchi l'unità e l'unità di guerriera allora puoi scegliere anche un'unità di gaunt a cui dare il buff per cui è abbastanza è molto flessibile questo stratagemma anche se ne sono altri due che sono la stessa questione sono molto flessibili su dove li vuoi usare hai bisogno di un exocrine che abbia bisogno di binare gli fai binare hai bisogno dell'exocrine con altri buff che vedremo dopo fai la stessa cosa altrimenti se vuoi bersagliare guerrieri e gaunt gratis così su un'unità perché no è un tipo di strategia di stratagemma che ho già visto molte volte infatti con gli skit con l'adme che ne hanno un po' di questo tipo qua che ti danno il contentino gratis per renderlo un pochino più forte anche solo se bersagli su un'unità di guerrieri ha la sua al suo utilizzo perché il role di uno per colpire è ferire comunque forte però come hai detto tu la sua forza è una flessibilità perché è versatile puoi usarlo su qualsiasi cosa puoi usarlo in qualsiasi fase tra l'altro puoi usarlo anche nella fight phase dell'avversario sempre quindi comunque è carino sì sì dopo vai è una stragemmissimile abbiamo visti anche qui custodes ha un distaccamento totalmente dedicato a questo tipo di distaccamenti di gruppo prossimo ipercorrosione spontanea nella tua shooting phase o fight phase no nella tua shooting phase o nella fight phase quindi entrambi unità tirani della tua armata che non è stata scelta per combattere fino a fine fase aggiungi due alla forza dell'armi a tiro puoi già dire unità e aggiungi uno alla forza dei midi se sono unità di guerri dei tirani o di tirani di 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 primale a lato questo è interessante perché più due alla forza permette di arrivare a dei break point importantissimi perché abbiamo i esocrini che vanno a forza 11 i laser dei zoanthropi vanno a forza 14 e passano spesso da il free real 5 al free al 3 o al 2 punita è un sacco interessante sì ma vuoi mettere con delle con dei termagans che feriscono al 3 i custodes scusate stiamo parlando non andrò a commentare questa tua affermazione se non fosse chiaro ah che bello fare 10 2 più aspetta ho forse subito un danno forse ci siamo divertiti abbiamo tirato i dadi è stato bello intanto frido il 3 no no vabbè chiaramente hai ragione ha diversi utilizzi non capisco la restrizione ai guerrieri sì perché in mischia da quando non ho fatto l'update dell'ultimo data slate sei in synapsi hai già più uno alla forza quindi per non sgelare i mostroni a forza i mini sì non solo i mostroni ma anche tipo le stupide unità non ha senso che vadano a forza 6 i mini gli ormagans inizia a essere pesante gli ormagans con forza 5 meno 1 comunque è contrattata che attesta però sì la restrizione forse ci sta però sì chiaramente di nuovo quell'unità là è versatile anche questo quindi c'è poco da dire sono utili anche questo qua secondo me sì sì esatto abbiamo il prossimo è restorative impulse impulso ristorativo che da attivare nella propria fase di comando bersagliando unità di guerriere di tiraniti sotto la sua forza di partenza chiaramente perché il suo effetto è di farne ritornare una unità se vi piacevano i necron questo è il posto per romperle scatole ulteriormente esatto un cp per un modello ci può stare magari un guerriere il tirano dell'alveare che dà più un cp ai tirani di mi ricordo mi pare sì mi pare sì questo però non è aumentare di uno l'oc sono tre l'oc un guerriero in questo attachment si è essere un po' più interessante che non abbia limiti quello è interessante perché per esempio quando c'eravamo noi con i custodes era limitato una volta per unità per partita sì è che comunque parliamo di unità che hanno l'esistenza 5 4 quant'anni guerrieri armatura il 4 armatura il 4 invulnerabile il 5 non è un po' fastidio esatto quindi comprendo non ci sia un limite lo trovo giusto in questo caso sì gli utilizzi anche al di fuori del fatto semplicemente di respawnare un modello per allimitare la coerenza per avvicinarti più ad un obiettivo o ad una carica respawnare un modello così è sempre l'utilizzo l'ho visto appunto giocando contro di te che contro i custodes quando respawni i modelli comunque fai altro che non sia semplicemente renderli più resistenti di quello che sono renderli più tosti a togliere quello che sono quindi quindi ci sono sempre dei trucchetti delle cose che ci puoi fare intorno non sono così sicuro che si riuscirà a sfruttare tanto qui perché alla fine sui custoders lo sfruttavi perché erano dei car armati questi guerrieri no cioè io ho paura che se qualcosa che ha solo anche il minimo di antifanteria si gira e guarda un'unità di tiranidi non te la lascia in vita per sfruttare sto stratagemma direi che non c'ho avuto neanche esperienza perché non ho giocato contro guerrieri quindi non so quanto siano non credo si abbia giocato guerrieri non mi sembra c'è un motivo se ne sono mai scoperto guerrieri stanno pagando lo scotto per la scorsa edizione i guerrieri ancora c'è un motivo sì 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 post stratagemma molto semplice è micronodi sinatici non dato a fase di movimento scegli un'unità di quelle tiranidi scegli un obiettivo che tu controlli in cui sei nel range quell'obiettivo diventa sticky fino a che l'avversario non pone sopra un livello di controllo ma già dal tuo la fine di qualsiasi fase che è importante perché è differente da tutti gli altri che abbiamo visto finora no tutti gli sticky sono fino a prima fase no tutti gli sticky sono la fine del turno quelli finora ed è una cosa che cambiava tanto perché per esempio se tu mi caricavi e per esempio con il custode per esempio questa cosa mi potevi fare con l'unità di guardie io faccio sticky sull'obiettivo quell'obiettivo è mio fino a che alla fine del turno l'avversario non lo controlla quindi io con le guardie anche se tu mi carichi e magari mi rubi con lo C io l'obiettivo lo tengo che qual è? l'istaccamento shield guard shield guardando la stessa cosa per quanto sto guardando la stessa cosa per quanto riguarda gli scrittori rangers e anche loro hanno all'inizio la fine del turno infatti sono onesto io mi aspetto che sufficientemente cambieranno l'ordine di sticky in questo che ha molto più senso come quello dei 6 pollici mi credo che avessero già cambiato gli obiettivi che controlli a fine di ogni fase che ce li ha sì quello fa il controllo dell'occhio forse anche per la sticky perché siamo già abituati a fare lo sticky cioè comunque gli obiettivi perché sticky bypassa quel check ed è praticamente un'abilità che metti sull'obiettivo che ti dice che lo tieni finché condizioni dell'abilità e in quel caso dice finché l'avversario non lo controlla alla fine o all'inizio di un turno ok è uguale è comunque solido bisognerebbe vedere perché loro forse erano reward forse loro è diverso allora e avrà un modo o l'altro per dare sticky agli obiettivi è sempre solito sì piace piace a tutti i conti avere anche l'obiettivo di casa tua probabilmente avrai una biovura sopra cose del genere però vabbè avere questa opzione nel caso ti stai muovendo attraverso la non è male insomma lo userai è sempre un effetto solido ti dico per esempio si confermo la Dave Carcella come vuoi quindi cambieranno il wording veramente va bene buono l'ultimo è parasitic payload carico di parasitico fase di tiro unità guerrieri con armi da tiro che non ha ancora sparato fino a fine della fase le armi equipaggiate di quei modelli hanno ogni ora cover e una volta che hai risolto gli attacchi se hai colpito uno o più quell'unità con uno o più attacchi non potranno più avere cover per il resto del turno questo è un altro effetto che è sempre forte lo vediamo sul motivo per cui tutte le liste delle sorelle hanno tre per castigator scusa gli immolator è la stessa cosa ma non è la stessa abilità gli immolator hanno che un'unità a cui ho sparato non beneficia della cover è un effetto sempre solido che funziona non c'è nessun negativo non c'è niente da dire è semplice e funziona sempre bene ultimo è forte perché avere cover è così facile in questa edizione che qualsiasi modo per toglierla è ben accetto perché rende gli ap-1 essere ap-0 oppure meglio e quindi anche perché come esercito i tirani non hanno alto ap ha maggior ragione no no infatti anzi tranne i zoanthropi che sono una cosa che abbia ap più alto nella media che hanno ap di 2 comunque di sentire Giovanni si lamentava di questa specifica cosa sono proprio l'attacca in 12 minuti sono la scannon proprio ok comunque poi gli recover contro un attacco di la scannon è fastidioso perché molto probabilmente può fare la differenza su un mandato invulnerabile o no si contro praticamente è tutto le uniche armi di cui non beneficiano tanto dell'ignorar cover sono le armi con meno 4 ma dopo devi consigliare che c'è comunque armo no contempt per cui a seconda del matchup neanche il meno 4 non beneficia di questa cosa e già il meno 4 non ce l'hanno così tanti tra parlando perché ce l'abbiamo sui melta sulle come si chiamano sui blaster dei dark eldar le doomark forse hanno meno 4 si per avere un profilo fortissimo che sgrava il repulso noi parleremo prossima volta del doomark esatto ultimo abbiamo infine scudo sinattico da attivare nella fase di tiro dell'avversario dopo che lui ha scelto i bersagli a cui sparare con la sua unità e se ha bersagliato un'unità di guerrieri con alcuni di questi attacchi con almeno alcuni di questi attacchi ha lo stesso effetto di quella dello stratagema di amplificazione sinattica che abbiamo visto prima cioè può essere rimbalzato su un'unità di gaunt vicino al centro 6 pollici e da l'effetto che abbiamo già visto negli altri discorsi due attacchi penso questo è il terzo di fila che ha questo effetto cioè meno uno a essere ferite se l'attacco sarà forse più alta la resistenza cosa molto facile se l'unità ha resistenza 5 dei terreni di guerrieri se non si stanno sparando con dei bombi le famose gargolle prima che hanno l'invulnerabile grazie al guerriero prime con questo qui cioè sono molto più interessanti vero certo certo non essere ferite rende molto stiliose 20 gargolle con un piscatole sì certo certo non insieme un istacame dunque solido onestamente non mi dispiace come si presenta sì sì dobbiamo vederlo sul campo perché secondo me potrebbe fare cose interessanti come realtà risultare mediocre assolutamente che lo rende comunque interessante va un po' mescolato mescolata la lista tra mostroni e terreni di guerrieri probabilmente per sfruttare tutte le cose come l'avanzata e carica per il tiranno potenzialmente il più di forza sparare il ignora's cover per avere più potenziali dati in tiro però competitivamente al momento si gioca solo mostroni l'invasion fatlete oppure grossissime liste di tante fanterie piccole ma è molto più difficile vedere sono cose molto estremi sono molto estremi perché sono lento a giocare quello che vuole dire che stavo pensando è il tipo cosa beneficerebbero i mostroni da questa lista l'ignora cover il binare lo stichi decisamente per cui mi vedrei semplicemente tipo togliere un mostrone togliere i gaunt per far spazio a due unità di guerrieri normalmente tu giocheresti in invasion fleet immagino no? con i mostroni giochi in invasion fleet adesso non ho presente però gli stratagemmi cosa facciano perché bisognerebbe vedere anche quelli aspetta che me li controllo è una cosa tipo uno è un film no pain che è abbastanza fastidioso l'abilità di attachment di base comunque è molto forte perché è abbastanza flessibile a seconda del tuo avversario cosa vuoi dare le tonità è buona invasion fleet ecco qua sì il film no pain al 5 se sei insieme è molto forte è molto forte soprattutto appunto considerando che giochi mostroni su quali il film no pain è estremamente fastidioso e di chi c'è gioco in neurotiranno per i zonantropi comunque ce l'hai da di serve la synapsi il critical hit è al 5 più su fino ad unità in synapsi puoi scegliere doppia abilità puoi scegliere doppia abilità di quella all'inizio puoi fare consolida di 6 puoi risuscitare di 3 più 3 modelli da un gaunt al 4 più combatti con unità in corpo a corpo poi ho tentato di dire come distaccamento molto solido quello base e stiamo parlando sempre di tenere sempre di tenere come base della lista mostroni ma non penso a cui magari metterci dentro un paio di treni di guerrieri probabilmente per casual play questo distaccamento sarebbe quello nuovo più interessante se non vuoi giocare mostroni ma a livello competitivo al momento si gioca i mostroni perché sono in migliore unità e anche potenziando i guerrieri qui non ti porta abbastanza da dire preferisco quel distaccamento per cui ho paura che questo fanno qualche cambiamento in più col data slate finché non ce l'abbiamo in mano così con la situazione attuale tra i due preferirei sempre quell'altro per gli stratagemmi molto più specifici concordo assolutamente bene 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 grazie a tutti